Contrada della Tartuca, parlerò poco perché poi ci sarà chi invece darà abbondanti spiegazioni sul programma, ma volevamo iniziare con l'inno della Contrada della Tartuca, trascritto appositamente questa sera dal maestro Marcello Faneschi, nostro docente, e che vede la partecipazione oltre del maestro Vatti, che poi suonerà in concerto, di due dei nostri migliori studenti, Maria Lisa Pampaloni e Riccardo Dalladonce a violoncello. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.